E con il nuovo DPCM anche le palestre hanno dovuto chiudere nuovamente un provvedimento penalizzante, denuncia il presidente della UISP di Firenze, Enzo Baldini. Noi non abbiamo diritti, abbiamo dei contratti che non ci permettono di avere ferie, di avere malattie, di avere maternità, quindi ci hanno sempre tolto la dignità di avere un'indipendenza. Una laurea in psicologia, una passione infinita per la salute delle persone ma anche un futuro buio, per non dire drammatico per quanto riguarda l'aspetto economico. È forte e chiara la denuncia di Annalisa? Noi abbiamo avuto i contributi ma molto in ritardo da parte appunto di sport e salute ma sono contributi ovviamente sono dei palliativi, non ci permettono di sopravvivere, di sostenerci e sostenere soprattutto le nostre famiglie. Marco Cecantini, presidente UISP di Firenze, parla di provvedimento penalizzante dopo gli investimenti fatti per garantire un bene essenziale per i cittadini. Ritroveremo un'altra volta con persone obese, con persone che hanno patologie che non sono state curate attraverso il movimento e quindi con una popolazione sicuramente meno sana dal punto di vista della salute. Una decisione, quella del governo, difficile da comprendere perché gli impianti sportivi finora sono risultati ben gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid. Io vorrei che si continuassero con i controlli non solo in piscina e palestra ma poi in tutta l'attività che regola la vita delle città e che si sanzionasse laddove non si rispettano le regole ma che si permettesse l'attività laddove invece le regole sono rispettate.